Progetti Pure è un prodotto, un'idea nata più di 30 anni fa, portata ad essere attuale semplicemente spogliandola. Non è stato cambiato niente da quello che è stato fatto 30 anni fa come struttura, cioè non è cambiata, è cambiata semplicemente la struttura e tolta il rivestimento. È l'evoluzione delle progetti normali, quelle famose poltroncini, io dico famose perché effettivamente sono diventate famose, hanno 30 anni di vita, che hanno del pauferro, che è questo bracciolino, un'essenza molto ricercata, esotica, che l'hanno rese caratteristiche e inimitabili. Ho pensato a un cuoio sospeso come se fosse una maca, ho cercato di fare in modo di applicare questo cuoio in una maniera facile, con dei dettagli, dei bulloni che le bloccano sulla poltroncina, ma ti permettesse di sedersi in una maniera abbastanza comoda, senza interferire sulla linea. Quindi due materiali primari, legno e cuoio. Cuoio doppiato, con una particolarità aggiuntiva. Non ci sono stampi per questo cuoio, ma sono semplicemente delle cuciture che lo rendono curvo. È come cucire un vestito addosso. Alla fine il corpo umano non è che è cambiato molto in tutte da quando siamo nati, quindi le forme, le linee, le dimensioni sono sempre quelle. Quindi queste linee dureranno nel tempo perché sono normali. Grazie. Grazie.